Ciao a tutti e benvenuti a una nuova Aperistoria. Per accompagnare l'Aperistoria di oggi vi potrei consigliare di sorseggiare, anzi di bere a bei bicchieri perché l'ho bevuto così, quello che è uno dei miei vini preferiti, che anche se mi vergogno perché io sono piemontese quindi dovrei tenere alta la bandiera degli ottimi vini piemontesi, in realtà uno dei miei vini preferiti è il Lambrusco, il Lambrusco Emiliano. E dato che la storia di oggi riguarda, purtroppo per lui un po' nolente o nolente, uno tra i più grandi inventori italiani originario proprio di Bologna, direi che Lambrusco è perfetto per accompagnare questa storia. Di chi sto parlando? Beh, sto parlando di Guglielmo Marconi, che credo che si possa unanimamente riconoscere come uno dei migliori e più importanti scienziati italiani del secolo scorso, se non uno tra i più importanti scienziati di tutta la storia d'Italia. A Guglielmo Marconi non basterebbe una pillola intera, una pillola di 40 minuti, ce ne vorrebbe una serie da dedicargli per poter parlare di tutto quello che ha scoperto e di tutta la sua vita, di tutte le invenzioni, di tutte le proposte, le idee che ha avuto. Ma purtroppo, molto spesso, quando si parla di lui, soprattutto in ambienti, per così dire, pseudostorici, lo si fa per riferirsi ad un'invenzione che avrebbe fatto e che, secondo quanto viene raccontata, avrebbe potuto cambiare completamente il corso della Seconda Guerra Mondiale. Mi sto riferendo al famigerato, forse più che famoso, raggio della morte di Marconi. Ora, sono sicuro che qualunque appassionato di Seconda Guerra Mondiale questa storia l'abbia già sentita raccontare e quello che vorrei provare a mettere insieme sono tutte le informazioni che abbiamo proprio su questo. Partiamo dall'inizio. Che cosa sarebbe questo raggio della morte di Marconi? Si tratterebbe di un'arma, di un'arma che Marconi avrebbe sviluppato verso la metà degli anni 30, 35, 36, massimo 37 poi, è venuto a mancare e che avrebbe avuto un effetto incredibile. Si sarebbe trattato di un'arma a raggi, non meglio specificato, qualcuno dice onde, microonde, qua ci sono varie teorie, un'arma a raggi che sarebbe stata in grado di fermare qualunque motore che fosse da essa colpita. Secondo alcune fonti sarebbe stata un'arma direzionale, che quindi avrebbe puntato in un punto preciso, così come un laser per intenderci. Secondo altri sarebbe stata invece un'arma a raggio, in grado di spegnere tutti i motori in un certo raggio, anche in altezza ovviamente. Quest'arma, chiamata raggio della morte, anche se in effetti avrebbe spento semplicemente i motori di chi passava da quelle parti, sarebbe stata in grado, aumentando la forza del raggio, aumentando la forza delle onde, di far addirittura incendiare questi motori. È ovvio che in caso di guerra un'arma del genere avrebbe avuto degli effetti devastanti, sia dal punto di vista difensivo, perché sarebbe stata in grado di bloccare qualunque motore diretto verso una nazione, quindi impedendo ai carri armati di muoversi, o, questo era indicato come da suo uso principale, distruggendo qualunque aero che provasse ad entrare nello spazio di una nazione, ma avrebbe potuto avere, se direzionata, anche dei compiti offensivi, perché ovviamente sarebbe potuto essere utilizzato per distruggere, o quantomeno fermare, delle armate in avanzamento con i loro carri armati. Quest'arma è un po' l'arma segreta degli italiani. I tedeschi hanno le loro Wunderwaffen, vere o presunte che fossero, i loro dischi volanti, noi nel racconto abbiamo sempre avuto quest'arma segreta di Marconi. Dov'è che viene nominata quest'arma? Beh, partiamo dall'inizio. Innanzitutto Marconi in quegli anni non era l'unico che, secondo alcune teorie, stesse lavorando a quell'arma, perché in realtà Marconi non dirà mai espressamente di star lavorando un'arma del genere, anzi, nell'unico caso noto in cui ne parlò in un'intervista, addirittura smentì di aver lavorato a un progetto del genere, o comunque di averlo potuto portare a termine e di aver ottenuto un risultato. Chi invece affermava a più riprese di voler lavorare a una cosa del genere, negli stessi anni era un altro famosissimo inventore, cioè Nikola Tesla, il quale disse di star lavorando appunto ad un generatore e a un tubo in grado di dirigere una serie di onde in grado proprio di fermare i motori e quindi di poter essere utilizzato come arma, lui la chiamava un'arma di pace. Ora, sugli studi di Nikola Tesla qualcosa in più sappiamo, perché lui stesso li pubblicizzò a più riprese, sappiamo che cercò dei finanziamenti, cercò di avere da vari governi del denaro per poter portare avanti le sue imprese, ma sappiamo anche che nessun governo gli forni nulla e che alla fine anche lui quando morì quella opera non l'aveva portata a termine, anche se ovviamente ci sono tutte le teorie complottiste sul fatto che invece l'abbia portata a termine e si è poi stata fatta sparire dal governo americano. Per quanto riguarda Marconi, se non è lui ad aver diffuso queste notizie, chi l'ha fatto? Beh, ci sono due versioni. La prima dice che in effetti già durante la guerra o poco prima, il governo avesse fatto trapelare qualche notizia. non perché vera, non perché veritiera, ma perché in qualche modo voleva avere un duplice effetto, da una parte sollevare il morale della popolazione, soprattutto da luce delle prime sconfitte, come dire tranquilli, noi siamo pronti, abbiamo un'altra arma che è stata inventata da Marconi da utilizzare, mentre invece prima della guerra poteva essere stata fatta trapelare in qualche modo per preoccupare, spaventare eventuali potenze straniere. Come sappiamo i risultati non sono stati perfetti. La seconda fonte, invece, che secondo alcuni è proprio la fonte primaria della leggenda, cioè prima di questo avvenimento nessuno ne aveva parlato, è un libro che è stato scritto intervistando Rachele Mussolini, cioè la moglie di Mussolini, la moglie ufficiale per così dire, perché come sapete diamanti e, senza dimenticare poi Claretta Petacci, ce ne sono state tantissime. Ebbene, Rachele Mussolini racconta in effetti, in circa una pagina e mezzo, proprio di questo fantomatico raggio della morte. Dice di averne saputo qualcosa per la prima volta nel 1936, un giorno in cui aveva detto al marito Mussolini di volersi reccare a Ostia, e il marito gli aveva detto di passare lungo l'autostrada la Roma Ostia verso le 3, 3 e mezzo del pomeriggio, e che proprio in quella mezz'ora avrebbe assistito ad uno spettacolo incredibile. Rachele Mussolini racconta di avere fatto il viaggio in macchina accompagnata semplicemente da un autista, un agente dei servizi segreti che ovviamente la proteggeva, e che mentre si trovava lungo l'autostrada, allo scoccare esatto delle 3, la macchina si era fermata. Si era fermata la sua, si erano fermate le altre macchine che venivano nelle altre direzioni, e tutti i vari autisti, lei dice essere pochi, perché dice all'epoca non c'erano molte macchine, tutti gli autisti erano scesi e avevano cercato di capire quale fosse il problema, ma nessuno l'aveva capito. Alle 3 e mezza in punto i motori erano ripartiti, anzi, lei dice che lei stessa, ricordandosi quello che le aveva detto il marito, aveva consigliato all'autista alle 3 e mezza di provare a riaccendere il motore e tutto era ripartito. Alla fine di questo racconto dice che quando la sera aveva affrontato Mussolini, chiedendogli cosa fosse successo, lui le aveva raccontato che si trattava proprio di un'arma segreta che Marconi stava sviluppando, un'arma che sulla carta avrebbe cambiato il destino della guerra, che avrebbe permesso all'Italia di agire come meglio riteneva e l'avrebbe resa una grandissima potenza mondiale. Ora, la domanda a questo punto è, ma se esisteva un'arma del genere, perché non è stata utilizzata? D'altronde, che cosa abbiamo fatto nella seconda guerra mondiale, lo sappiamo tutti, l'abbiamo persa? Bene, la risposta ce la dà in parte la stessa Rachele Mussolini, in parte una serie di teorie che, devo essere sincero, ho trovato riportate con varie fonti su internet, ogni volta però senza riuscire a trovare la fonte originale, e ho l'impressione che tutte queste fonti vadano a riprendere proprio dal libro e da lì abbiano leggermente divagato. Secondo Rachele Mussolini, secondo altre fonti, Marconi, dopo aver portato a termine la sua arma, mentre ancora la stava perfezionando, avrebbe avuto una specie di sentimento, crisi di coscienza, diciamo così, e si sarebbe andato a confessare addirittura dal Papa, secondo altre fonti sarebbe stato il Papa a chiamarlo. Questo ovviamente non lo sappiamo, ma perché, ripeto, probabilmente non c'è una fonte originale, se non quella di Rachele Mussolini. Ebbene, una volta a cospetto del Papa, questi l'avrebbe confessato, si sarebbe fatto raccontare delle sue ricerche, e sarebbe stato proprio il Papa a consigliare a Marconi di distruggere quanto aveva creato. Secondo quanto racconta Rachele Mussolini, Marconi ne avrebbe parlato al marito, a Mussolini stesso, il quale avrebbe concesso allo scienziato di scegliere lui cosa fare. Se riteneva in scienza e coscienza di dover distruggere quell'arma, che Mussolini era pronta a promettere, avrebbe utilizzato solo a scopi difensivi, poteva farlo. E a quanto pare Marconi avrebbe scelto, ovviamente, questa strada. Questa storia che viene raccontata, ripeto, però fa acqua da tutte le parti, mi sembra assolutamente evidente. Fa acqua da tutte le parti, innanzitutto perché non c'è nessuna altra fonte che racconti questa storia. E ripeto, l'unica altra fonte presente, un'intervista del 1936 allo stesso Marconi, pare che invece la smentisca. Certo, questa seconda fonte ci fa capire che quantomeno delle voci all'epoca giravano, ma non sono state trovate altre documentazioni, non è stato trovato nulla di ufficiale. L'altra cosa che ovviamente fa acqua è l'idea che Mussolini, nel 1936, quindi quando l'Italia era già in guerra con l'Etiopia, quindi non in un periodo di pace, avesse deciso di rinunciare ad un'arma di tale potenza. Ora, vorrei mettere in chiaro, un'arma del genere in grado di distruggere qualunque motore, qualunque mezzo che si fosse trovato nell'area di utilizzo, avrebbe ovviamente reso l'Italia una nazione praticamente infermabile dal punto di vista militare, perché sarebbe stata l'unica a poter utilizzare un'arma di tipo meccanico, perché qualunque altro motore sarebbe stato distrutto. In più, la possibilità di incendiare quei motori avrebbe anche danneggiato le truppe che li utilizzavano. Un potere incredibile. E pensare che Mussolini non avesse fatto nessuna pressione su Marconi per poter avere un'arma del genere, ma avesse accettato di dire ok, vai, tranquillo, se quella è la tua coscienza, seguila, accettalo, beh, francamente, devo dire, è molto poco credibile. Ad ogni modo, questa storia circola dall'ora. Senza fonti, senza uno straccio di documentazione, ma perfetta per accompagnare le classiche teorie complottistiche. Perché se gli UFO hanno la base, gli UFO, che lo scuso, i nazisti, hanno la base sulla Luna, hanno l'UFO dei nazisti, hanno la base in Antartide, hanno il super soldato, noi avevamo il raggio della morte di Marconi, che non abbiamo mai utilizzato, non è servito, ma chissà, un po' sognare non costa niente. Spero di avervi fatto un po' di chiarezza su questa storia, anche perché ci sono, ripeto, tantissime versioni che circolano, ma se volete, trovate anche su internet proprio la pagina, la pagina e mezza in cui Rachele Mussolini racconta, e la mia impressione che quella sia l'unica fonte trovabile. Quindi, alla salute di Marconi, per le scoperte che ha fatto, non per questa che, verosimilmente, non ha fatto, e alla salute vostra. A presto!